...di trucco in diretta E devo dire un allievo a fuori dal comune Vero? Fra l'altro dopo le daremo anche un bellissimo attestato che potrà incorniciare con la firma di Federica Questo è quello che succede durante i nostri corsi di make up Cioè quelli normali Quelli normali Ciao Carol Che bel sorriso Ok Questa qua è fatto con un criterio Un'ottomazione Poi è un'ottomazione che si tratta di un'ottomazione che si tratta di un'ottomazione che si tratta di avanti E è il trucco di tutti i giorni che non serve andare ad analizzare Certo Poi quantamente mi stanno invenuto quindi questo è per il contouring allora ci rieuniamo al punto di riferimento la zona mandibolare il punto di riferimento è tra la zona mandibolare e la fine dell'osso di domani si agganciamo qua dall'orecchio quindi ragazze se volete imparare anche ad usare il contouring e le nostre palette appositamente appunto per il contouring potete venire a prenotare il corso di make up che dura due ore con Federica il sabato o nell'eventualità sempre su prenotazione verifichiamo la disponibilità di Federica anche in altri giorni durante la settimana preferibilmente la mattina potete imparare a truccarvi in modo veloce pratico semplice un pochino più complicato potete chiedere tutto ciò che volete a Federica vi farà vedere tutte le tecniche per mettere in risalto il vostro meraviglioso volto imparate ad amarvi sempre buon sabato buon weekend e più tardi vi faremo vedere la foto di Federica che consegna l'attestato nel corso di trucco appena fatto ciao